Galleria Borghese, uno dei luoghi simbolo di Roma che conserva le massime testimonianze dell'arte del Seicento della capitale. Fu il cardinale Scipione Borghese, amico e parente dei Sacchetti, nipote di Papa Paolo V, a volerne la costruzione per custodire ed esporre le opere d'arte della sua collezione. Qui ci sono anche i ritratti di Giulio e Marcello Sacchetti dipinti da Pietro da Cortona, due opere gemelle. Giulio fu tra i cardinali più influenti del suo tempo e sfiorò per ben due volte l'elezione a Papa e Marcello, banchiere, raggiunse l'apice della propria carriera quando acquistò la direzione e gli uffici della tesoreria generale segreta dello stato pontificio. Per i Sacchetti fu il momento di massimo potere economico. Il ritratto di Marcello, che apparteneva già alla galleria, è dal 2016 affiancato a quello del fratello. La Marchesa Giovanna Sacchetti ha deciso di donarlo al museo ripristinando l'unità della memoria familiare e permettendo il confronto diretto tra le due opere. I due personaggi furono dipinti da Pietro da Cortona fra il 1627 e il 1628 e rappresentavano i due capi della famiglia. Il capo laico, Marcello, infatti è rappresentato in un atteggiamento di negozio, cioè di affari, di vita dinamica nella laicità dell'esistenza, quindi appoggiato a un tavolo che sta evidentemente in un momento di riposo, di pausa, dalle sue occupazioni. Al contrario, il ritratto del cardinale, cioè di Giulio Sacchetti, ha uno sguardo che è rivolto con fermezza verso di noi, la stessa fermezza che ha nell'appoggiare la mano sul tavolo, così esattamente come Marcello, ma vediamo che tutti gli attributi iconografici di questo dipinto ci riportano alle sue attività cardinalizie, quindi un principe, ma un principe della Chiesa. è sicuramente una delle donazioni più importanti fatte ad un museo pubblico italiano.